Marathon K38, fresa micromotore a batteria per manicure mobile, la fresa Marathon K38 rappresenta l'apice dell'innovazione nel settore della cura delle unghie, offrendo una soluzione eccellente per i servizi di manicure mobile. Prodotto dalla rinomata azienda coreana Saiyang, il marchio Marathon è stato insignito di numerosi premi per i suoi eccezionali risultati nel settore, disponibile in tre colori bianco, rosa e nero. La K38 offre una scelta personalizzata per ogni stilista delle unghie alla ricerca di prestazioni superiori, con la Marathon K38, il lavoro non è più vincolato a un luogo specifico. Questa fresatrice portatile consente di offrire servizi di manicure a casa del cliente, in viaggio ovunque si desideri, liberando dai vincoli delle prese elettriche. La potente batteria agli ioni di litio da 2850 mA offre un funzionamento continuo di 4-8 ore, con una rapida ricarica di soli 3 ore. La modalità automatica di risparmio energetico assicura che la fresatrice non si scarichi accidentalmente durante l'inattività, il dispositivo si distingue per la sua semplicità d'uso. La manopola di controllo della velocità permette di gestire la rotazione fino a 30.000 giri al minuto, mentre il display digitale fornisce informazioni chiave come la velocità e livello della batteria. Leggera e facilmente trasportabile in una borsa inclusa, la K38 presenta una testa sottile con vibrazioni neutralizzate per un comfort ottimale durante il lavoro. Il set completo, comprensivo di comando a pedale e supporto protettivo, rende il lavoro ancora più efficiente, innovativa e la maniglia TWIST LOC, che semplifica il cambio delle frese con una rapida rotazione, eliminando la necessità di chiavi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!